Sarà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari di Napoli entro le prossime ore il giovane di quasi 20 anni con precedenti per armi, fermato dai carabinieri a polizia con l'accusa pesantissima di aver ucciso con quattro colpi di pistola un 27enne di Scampi Agostino Di Fiore, anche lui con qualche precedente. Tutto sarebbe accaduto dopo una lite in discoteca a Bagnoli, scoppiata la notte tra domenica e lunedì scorsi, per difendere, pare, una ragazza che non conosceva. La scorsa notte la squadra mobile della questura partenopea ha fermato su indicazione della procura dei minorenni con l'accusa di concorso in omicidio e porto e detenzione di arma da fuoco un ragazzo di appena 17 anni della zona del Pallonetto di Santa Lucia. Un giovanissimo con un cognome pesante, lo stesso di una nota famiglia camorristica. Secondo le prime indagini l'omicidio potrebbe essere riconducibile ad una lite scoppiata in una discoteca. La vittima, che pare non conoscesse il suo assassino, sarebbe intervenuto per difendere una ragazza che neanche conosceva, che in quel momento veniva maltrattata dal presunto assassino. Sembrerebbe che neanche il ventenne la ragazza si conoscessero. Le telecamere di sicurezza del locale intanto hanno ripreso la scena. Le immagini chiariranno cosa è accaduto. La lite poi avrebbe avuto uno strascico all'esterno del locale e così, all'altezza dell'incrocio di Coroio, poco dopo l'alba, il ventisettenne è stato ucciso con una pistola calibro 6. L'arma, con matricola cancellata, è stata ritrovata dai carabinieri in un cespuglio. Tutti i colpi avrebbero raggiunto la vittima al petto.